Movimento di Candreva, poi cerca il cross dentro, occhia Perisic! Provato col sinistro, palla fuori, si lamenta per una trattenuta. Santon, bravissimo Santon. Poi però rischia troppo, e allora ancora Wittmer. Cerca un compagno, Wittmer, prova, palla dentro! E il gol di Lasagna, 1-0 Udinese al 14esimo minuto. Pasticcio clamoroso da parte di Santon. Dopo un'ottima giocata difensiva, regala il pallone a Wittmer per il cross che arriva al tapin di Lasagna ancora una volta. Inter 1 con la maglia del Milan. Lui che è tifosissimo dell'Inter da quando era bambino. Candreva la risposta, Icardi! 50 secondi per rimettere tutto a posto. Il gol di Marito Icardi, il bomber nerazzurro, non sbaglia mai. Brozovic. Sbaglia ancora il cross, era già successo 5 minuti fa. Poi prova, Candreva, palla che esce di pochissimo. Ebbe segnato il gol di giornata, se fosse entrato lì. Gran numero, c'è Borcavalero. Prova col destro, palla deviata, arriva centrale tra le braccia di Bizzarri. Che tunnel di Borcavalero. Parte finale del primo tempo, Candreva. Chiuso Marac, poi il destro da fuori di Brozovic. Perisic, centimetri ancora una volta dal gol del 2-1. C'è Perisic, dentro si muove Icardi. Va il croato, uno contro uno. Ancora Perisic, prova! Risposta di Bizzarri. Ha tentato il tiro e non in cross. Qui sul primo palo Perisic, palla in palo laterale. Marac. Lo ferma Borcavalero, poi Icardi, c'è lo scarico, Candreva. Col destro, Bizzarri non si piega. Arbitro, occhio al break. Sale De Paul, sguardo dentro, cerca Lasagna. Palla che resta viva, Lasagna col destro. Palla in curva, che occasione, c'è deviazione, calcio d'angolo. Bravissimo anche Miranda, ma la sua chiusura diventa un assist per Wiedmer. Cerca il cross, palla deviata. Chiedono il tocco con la mano. Vediamo un po'. Pronto Mariani. Calcio di rigore. Non è che avessimo grossi dubbi. No, no, no. De Paul contro Andanovic. Va col destro, palla in rete. 2-1, ancora una volta. Nuovo vantaggio dell'Udinese al 61esimo. Non sbaglia De Paul. Candreva. 11 corner dell'Inter. Ancora Candreva, cerca il cross, secondo palo. Prova screen al colpo di testa. Traversa, clamorosa. Per l'Inter. Al 68esimo. Ancora Candreva. Cerca il primo palo. Gagliardini, colpo di testa. Bizzarri, calcio d'angolo. Iancto. Iancto, due dentro. Cross che arriva, secondo palo. Barak. E il gol del 3-1 Udinese. Ha mutolito San Siro. Al 77esimo. Barak punisce Andanovic. e porta più due. L'Udinese sull'Inter. Perisic. Parla nel mucchio. Colpo di testa. Palla fuori. C'è un apolo. Guarda abbiamo investiti sull'Inter. Perisicano.